Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a parlare di un argomento molto importante non solo in matematica ma proprio nella vita reale, cioè il concetto di probabilità. Che cos'è la probabilità? Intuitivamente possiamo dire che la probabilità sia un giudizio che diamo sul verificarsi o meno di un evento futuro e in matematica cerchiamo di quantificare questo giudizio con un numero compreso fra 0 e 1 e spesso esprimiamo questo numero in modo percentuale. Ci sono diverse definizioni di probabilità e cerchiamo di studiarne alcune. La prima, probabilmente quella più conosciuta, la definizione classica, definisce come la probabilità di un certo evento è i casi favorevoli fratto i casi totali possibili dell'evento considerato. Una seconda definizione, che è quella statistica, che si usa ad esempio spesso anche in fisica è quella che la probabilità di un certo evento è sia il numero di successi, cioè di tutte le volte che abbiamo visto effettivamente verificato l'evento che stiamo studiando fratto il numero di tentativi che abbiamo effettuato in generale, in totale. Esiste infine un'ultima definizione, una definizione diciamo soggettiva, che riguarda sostanzialmente il giudizio che ciascuno di noi dà sul verificarsi o meno dell'evento, e cioè quanto sono pronto a scommettere sul verificarsi di ciò che sta effettivamente per succedere. Questa definizione è più complessa e per ora andremo a concentrarci sulle prime due. In particolare lo facciamo tramite questo esempio. Qual è la probabilità di ottenere la faccia numero 3 lanciando un classico dado a 6 facce? Se applichiamo la definizione classica, ovviamente c'è una sola faccia del dado che ha il numero 3 su 6 facce possibili del dado e quindi la probabilità casi favorevoli fratto casi totali sarà 1 fratto 6. Il risultato è circa 0,16. Se invece andiamo ad applicare ad esempio la definizione statistica, vediamo che il calcolo di questa probabilità è più elaborato. Se lanciamo 100 volte il dado e ottengo 18 volte la faccia numero 3, possiamo dire che la probabilità dell'evento esce 3, almeno con quel determinato dado, è 18 su 100, quindi 0,18. E vedete che questo risultato è già diverso da quello 0,16 che avevamo tramite la definizione classica. Se poi ho voglia di lanciare il dado e lo lancio molte più volte, ad esempio 400 volte, vado a contare quante volte ottengo il numero 3 e lo trovo ad esempio 69. Allora posso dire in questo caso che la probabilità dell'evento esce il numero 3 sarà 69 fratto 400. E questa volta mi viene 0,1725, quindi vedete ancora un risultato diverso da quello precedente. Quindi la definizione statistica della probabilità è più delicata. Però si osserva che più è grande il numero di tentativi che vado effettivamente a svolgere, più il risultato si avvicina effettivamente al risultato, diciamo, della definizione classica. Vediamo ora come possiamo dare una definizione matematica tramite gli assiomi della probabilità. Farlo in maniera precisa e completamente matematica è abbastanza impegnativo e richiede l'utilizzo della teoria della misura. Però noi vediamo, almeno tramite assiomi, che cosa significa. Allora noi dobbiamo andare a considerare un determinato insieme, di solito lo si indica economica, che sia l'insieme di tutti gli eventi possibili che possiamo andare ad esaminare. Allora diciamo che la probabilità è l'applicazione che associa ad ogni sottoinsieme dell'insieme ambiente omega un numero compreso fra 0 e 1. In simboli possiamo dire quindi che la probabilità è questa applicazione che va dall'insieme delle parti dell'insieme omega, quindi da tutti i sottoinsiemi, appunto nell'intervallo 0,1 chiuso. Questa applicazione però deve rispettare determinate proprietà, che sono queste. Per prima cosa diremo che la probabilità dell'insieme vuoto sia nullo. Stiamo quindi dicendo che il nulla ha probabilità 0. Poi richiediamo che la probabilità di ciascun evento sia compresa fra 0 e 1. E questo, diciamo, è intrinseco proprio alla definizione che abbiamo dato, perché vedete, la probabilità deve essere un'applicazione da questo insieme delle parti nell'intervallo 0,1 e quindi chiaramente deve valere che P di E è sempre più grande, maggiore o uguale di 0 o minore o uguale di 1. Richiediamo inoltre che la probabilità dell'insieme evento, quindi di tutti gli eventi possibili, P di omega, sia uguale a 1. Chiediamo, infine, quest'ultimo assioma importante che dovremo analizzare nel dettaglio, in particolare in un prossimo video, che è la probabilità dell'unione di eventi, cioè che la probabilità di A unito B sia minore uguale della probabilità di A più la probabilità di B. E questo deve essere vero per ogni insieme contenuto nell'insieme ambiente omega. Cerchiamo di capirlo. Allora, a priori uno potrebbe aspettarsi un'uguaglianza fra la probabilità di A unito B e la somma delle probabilità di A e B, ma questo sarebbe un approccio sbagliato. Perché? Come vi dicevo prima, in generale dobbiamo immaginarsi la probabilità come una sorta di misura, quindi possiamo facilmente immaginare la probabilità dell'insieme A come, ad esempio, l'area dell'insieme che viene rappresentato in questo grafico. Allora, vedete, nel rettangolo ho rappresentato omega, tutti gli eventi possibili. Quindi, l'insieme A andrà a considerare determinati eventi. Stessa cosa, l'insieme B. Quindi, se io immagino la probabilità di A come l'area di A e la probabilità di B come l'area di questo insieme B, vedete che se io vado a calcolare o a cercare di determinare l'area dell'unione di questi due insiemi, quindi questa area deve essere chiaramente più piccola della somma delle due aree. Perché? Perché se io faccio P di A più P di B in maniera diretta, vado a contare due volte questa fetta di intersezione dei due insiemi. E quindi, a priori, deve valere questo segno minore o uguale. Riprenderemo però questo ultimo assioma e lo cercheremo di approfondire meglio in un prossimo video. Per concludere, vorrei vedere questo esercizio in cui cerchiamo di capire bene questi assiomi e quanto abbiamo detto. In particolare, un dado a sei facce è truccato, in modo che la probabilità di ottenere in un singolo lancio la faccia numero sei sia il triplo di quella di ottenere le altre facce. Calcola queste probabilità. A tutti piacerebbe avere un dado fatto in questo modo, no? Sarebbe molto più facile vincere i nostri giochi o le determinate scommesse che andiamo a fare. Cerchiamo ora di capirlo e approfondirlo. Un approccio sbagliato sarebbe questo. Pensare che tutte le altre facce, la faccia uno, due, tre, quattro, cinque, abbiano probabilità un sesto come lo è in un dado corretto in cui le varie facce sono tutte qui probabili e andare a dire che la probabilità della faccia numero sei è il triplo, quindi verrebbe semplicemente tre sesti. Perché questa risposta è sbagliata? Beh, perché ovviamente gli eventi esce uno, due, tre, quattro, cinque o sei sono tutti gli eventi possibili. Abbiamo detto prima che la probabilità di omega, quindi di tutti gli eventi possibili, deve essere uguale a uno. Ma se noi andiamo a sommare queste probabilità, che cosa succede? Succede che qui abbiamo cinque probabilità uguali a un sesto, quindi cinque sesti, più questa probabilità di tre sesti mi darebbe otto sesti in totale. Ovviamente otto sesti è maggiore di uno e quindi vediamo che queste probabilità non sono ben definite, non rispettano l'assioma che stavamo considerando. E quindi dobbiamo rivedere la nostra analisi del problema. La risposta corretta si ritrova in questa maniera. Allora, guardate, indico con P la probabilità delle facce, diciamo, dall'1 al 5, quindi la probabilità di 1, di 2, 3, 4, 5. In questo modo, allora, la probabilità che esca il numero 6, che è quella che vogliamo determinare, è 3 volte P. Ora, ricordando l'assioma di cui abbiamo appena parlato, cioè che la probabilità di omega di tutti gli eventi possibili deve essere 1, possiamo dire che la somma di tutte queste probabilità, dall'1 al 6, sarà proprio 1. Ora, sostituendo la P e le 3P che abbiamo appena indicato, avremo, vedete, probabilità 1, 2, 3, 4, 5, 5 volte P, più la probabilità che esca il 6, 3P, ovviamente questo ci dà 8P. 8P deve essere uguale a 1 per l'assioma di cui stiamo discutendo. Allora, P sarà uguale a 1 ottavo, e questa probabilità è la probabilità che associamo ad ogni faccia dall'1 al 5. La probabilità che esca 6 sarà 3 ottavi, ovviamente 3P. In questo modo, vedete, ho trovato le prime 5 facce tutte equiprobabili, con probabilità 1 ottavo, e l'ultima faccia che ha una probabilità esattamente il triplo. come richiesto.